Il video che condividiamo con voi oggi racconta la selezione di fotografie scattate da tre fotografi, Nino Migliori, Franco Fontana e Daniele Duca. Tre fotografi che raccontano il mondo che li circonda in maniera diversa, ma che sono accomunati dalla volontà di raccontarlo al loro modo. Sono coscienti del fatto che loro danno significato a quello che fotografano, soltanto perché attraverso quel che fotografano, attraverso gli oggetti, i paesaggi, la forma che fotografano, raccontano essi stessi, se stessi. Infatti Franco Fontana, per esempio, in una testimonianza, in una intervista, ha detto che lui non va a cercare, ma va a trovare, perché sa già quello che cerca, sa già quello che vuole fotografare. Tutte e tre sono consci del fatto che il racconto che loro fanno attraverso la fotografia è soggettivo, non è oggettivo, non vuole essere per forza la rappresentazione reale di quello che vedono. Loro non documentano, ma interpretano. Loro vanno alla ricerca, quindi, di una verità ideale, propria, che non è necessariamente oggettiva, ma racconta quello che loro vedono. Loro interpretano il reale. Così, per esempio, Daniele Duca. Daniele Duca è nato ancora nel 1967, è il più giovane fra questi tre fotografi che abbiamo oggi selezionato. Si occupa di fotografia a livello professionale da oltre 25 anni. Lui scatta per gli altri, quindi lui lavora essenzialmente su progetti fotografici, su lavori fotografici, che gli vengono commissionati. Per esempio, ha vinto dei premi per una campagna pubblicitaria che ha condotto, che ha realizzato per la De Cecco, la fabbrica che produce pasta. Infatti, lui collabora con moltissime agenzie di pubblicità. Ha anche vinto tanti premi, addirittura anche quello dell'umorismo utilizzato nell'arte nel 2003. Le fotografie che abbiamo scelto sono delle immagini in bianco e nero. Lui in realtà fotografa essenzialmente in bianco e nero. Rappresentano una selezione dalla campagna pubblicitaria per la De Cecco e poi altri scatti che lui ha realizzato raccontando oggetti di uso quotidiano, quindi i tappi delle penne, le penne stesse, i bottoni e le asole dei bottoni. Quindi, per esempio, nel caso della fotografia dell'asole del bottone, oltre a esserci un contrasto tra il bianco del bottone stesso e il bianco-nero del tessuto, c'è anche una volontà di cercare un contrasto, in un certo qual senso, tra il tessuto stesso, la fantasia del tessuto e la perfetta circonferenza del bottone. Per quanto riguarda invece gli scatti, le fotografie della pasta, appunto, come vi ho detto, è una selezione da una campagna che lui ha realizzato per la De Cecco e racconta la pasta in maniera diversa. Non è, diciamo, di pensiero comune fotografare gli spaghetti nel momento in cui anche li usciamo dal pacco per poterli cuocere. Ecco, lui invece ha giocato in maniera ironica, in modo ironico, appunto, sulle fotografie. Ed è quello che potremmo fare anche noi, chi di noi non ha un pacco di pasta. Possiamo raccontare, per esempio, la storia di una farfalla, la pasta farfalla, inserendola in un ambiente, in un fondale, che magari non la faccia più vedere semplicemente come un formato di pasta. Franco Fontana è nato nel 1933 a Modena, quindi in Emilia Romagna. Lì ha iniziato ad avvicinarsi alla fotografia. Secondo quello che era un percorso comune in quegli anni qui in Italia, si è avvicinato alla fotografia entrando a far parte di un circolo fotografico, mettendosi anche in contatto con altri fotografi amatoriali che poi, come lui, sarebbero diventati dei professionisti riconosciuti. Circa, diciamo, alla fine degli anni Sessanta, era esattamente il 1968, è stata organizzata per lui una mostra interamente a lui dedicata. E quell'anno, quella mostra, rappresenta il punto di svolta nella carriera del fotografo. Infatti, da quel momento, ha iniziato a firmare diverse campagne pubblicitarie sia per testate giornalistiche che per grandi aziende. E da quel momento è iniziata la carriera fotografica di Franco Fontana, per quanto lui definisca la sua fotografia, la fotografia per lui non come un mestiere, non come una professione, ma come realtà della sua vita stessa. Da allora ha preso parte a oltre 400 mostre, sono state pubblicate oltre 70 libri con le sue opere, e queste ultime sono conservate in più di 50 musei in tutto il mondo. La sua fotografia è abbastanza particolare, soprattutto per quelli che sono gli anni del Novecento. Lui è andato in controtendenza rispetto a quelle che erano le regole, i codici della fotografia in quegli anni. La maggior parte dei fotografi professionisti scattava in bianco e nero, lui invece, pur non disdegnando il bianco e nero che ha utilizzato nella sua fotografia, lui in realtà ha iniziato a fotografare a colori, e non voleva più inquadrare e quindi fotografare la realtà così come appariva, e così come era avvenuto con fotografie a lui precedenti, ma di cercare all'interno della realtà stessa quello che più gli interessava, quello che più lo rappresentava. Tanto che le sue inquadrature sono molto strette, non sono approcci di tipo descrittivo, ma anzi tende a cancellare degli elementi che possano rendere più chiara l'immagine allo spettatore. E leggendo una parte di esso ha elemento che più gli interessa. La macchina fotografica per lui è uno strumento che lo aiuta appunto a rappresentarsi e a presentarsi. Un'altra svolta nella sua carriera è avvenuta alla fine degli anni 70, inizio anni 80, quando ha iniziato una serie di viaggi negli Stati Uniti, e in quell'occasione è stato coinvolto nella realizzazione di un'opera, di un grande libro da Ralph Gibson. Era un'opera collettiva, un libro che ha messo insieme tantissimi fotografi, che si intitola Contact Theory, pubblicato dalla Lustrum Press. E lì lui ha inserito una serie di fotografie, che è quella che noi abbiamo scelto di mostrarvi, dal titolo Presenza-assenza. Ci sono luci e ombre. Ed è in quel momento che le ombre sono entrate nel suo orizzonte visivo. Vi leggo quanto lui scrive di questo progetto. Man mano che scattavo quello che inizialmente era un rifiuto, si è trasformato e ho scoperto le ombre. E dalla maturazione di questo seme è nato uno dei miei progetti, Presenza-assenza. La verità è che le ombre fino a quel momento non le avevo viste. Esistevano già, ovviamente, ma non le avevo capite fino in fondo, al punto di poterle esprimere con il mio lavoro. Per me si disperdevano in un orizzonte infinito senza significati. Poi invece ho cominciato a trovarle intriganti. Le ombre ci sono. Occupano uno spazio ben preciso. Ma la persona a cui appartengono non si vede. La sua è una presenza immaginaria, carica di mistero e di suggestione. Quindi qui vi presentiamo alcuni scatti che appartengono appunto a questo progetto, che sono stati scattati sia all'inizio degli anni 80, come vi dicevo, ma in realtà anche dopo, agli anni 90. E sono scattate sia a colori che in bianco e nero. Ha cominciato a fotografare in bianco e nero in quel momento, perché trovava il bianco e nero ideale per raccontare il contrasto fra luce e ombra. Ma in realtà al contempo stesso le scattava a colori, rendendosi poi conto che il contrasto viene fuori anche nella fotografia a colori. Ed è quello che vorremmo fare noi con il nostro progetto. Nino Migliori è nato a Bologna nel 1926. Ha iniziato a fare fotografie nel 1948. È tra i più eclettici, più famosi fotografi professionisti del nostro paese. La sua carriera è lunghissima. Continua a produrre fotografie, e continuano a essere messe in mostra sue immagini, sue fotografie. Ha scattato in bianco e nero, ha scattato a colori, ha rappresentato e fotografato delle realtà oggettive per tutti quanti, quelle che vengono chiamate fotografie realiste. Ma in realtà ha anche molto sperimentato. È andato oltre la fotografia pur rimanendo la sua caratteristica principale, quella appunto di fotografare. È un fotografo ma è anche un artista, potremmo dire, nel senso però più alto e in assoluto del termine artista. I suoi lavori sono il frutto di una costante e continua riflessione sulla fotografia, non soltanto sul mezzo, sulla macchina fotografica, non soltanto sul prodotto, ma anche su come questa viene vissuta dal pubblico. E le sue opere sono importanti, sono molto forti perché oltre a esserci la sua di interpretazione ci sono anche quelle che vengono date da chi queste immagini le fruisce. La sperimentazione è quello che maggiormente lo caratterizza. Non appartiene a un periodo specifico, ma è proprio un suo modo di pensare. è un suo modo di utilizzare tutti gli strumenti che fanno parte del mondo fotografico, a partire dalla macchina fotografica, a finire alle pellicole, ma addirittura anche all'uso della camera oscura, dentro la quale produce immagini. Quasi come se per lui la macchina fotografica è sì un mezzo, uno strumento puro per fare fotografia, ma anche senza quella lui riesce a realizzare delle immagini che hanno un'importanza all'interno delle regole del codice fotografico, della storia della fotografia italiana. Va quindi oltre. Tra le sue, diciamo, opere maggiormente note ci sono i ritratti realizzati con la Polaroid, con la pellicola, ritratti sui quali lui è intervenuto anche in fase di sviluppo, quasi sfregiandoli a volte, rendendoli, strappandoli, intervenendoci proprio sopra, trasfigurandoli in un certo qual senso. Da quello che si può comprendere dalle sue immagini alla sua fotografia è quello che lo interessa maggiormente è l'uomo. L'uomo con le sue testimonianze, l'uomo con le sue azioni. Per esempio, alla fine degli anni 40 circa, fino agli anni 70, quindi per circa 30 anni più o meno, lui ha iniziato una ricerca sui muri e sui manifesti strappati, fotografandoli. Per lui, il muro è uno spazio dell'immaginario dell'uomo. L'uomo davanti al muro, fin dall'epoca preistorica, riesce a liberarsi di quanto lo costringe entro regole ben precise. Il muro diventa per lui luogo di disinibizione. Ha fatto l'esempio dei graffiti dell'uomo preistorico all'interno delle grotte, ma anche delle scritte sui muri nei siti romani come Pompei qui in Italia, ma anche semplicemente appunto i graffiti creati con lo spray. Secondo lui, davanti al muro l'uomo libera il suo inconscio ed esprime pienamente se stesso. Quindi, il muro diventa supporto che permette la visualizzazione delle idee e dei sentimenti che l'uomo e la donna che l'uomo in quanto essere umano produce e questa è la parte interessante appunto di Nino Migliori. Lui ha completamente stravolto quelle che erano quelle che erano e sono ancora oggi in parte le regole della fotografia. Lui ha snaturato tra virgolette quelli che erano le regole, i codici della fotografia e lo ha fatto per esempio con Tempo rallentato che è questa selezione che noi vi presentiamo è stata scattata dal fotografo nel 2009 ha messo dentro dei vasi dentro dei barattoli di vetro frutta e verdura conservandole creando quasi delle nature morte ma che sono state cristallizzate nel tempo e la cosa interessante è che qualche anno dopo nel 2013 le ha pretente esposte come un'installazione vera e propria quindi ha realizzato delle teche entro le quali ha posto questi vasi creando dei giochi di interpretazione su diversi livelli non c'è più soltanto l'interpretazione dell'artista del fotografo ma anche quella di chi fruisce di chi va a vedere queste immagini quindi accanto alle fotografie c'erano appunto questi basi lui ha completamente esplorato quella che è la natura lo ha fatto con un'altra serie che magari se vi va vi presenteremo natura snatura in cui in campi completamente neri ha fotografato delle candele con natura in posa con l'alfabeto immaginato che è una serie del 1995 che sono diverse immagini messe l'una a fianco all'altra che creano un'immagine unica ecco questo è Nino Migliori Nino Migliori quindi è partito parte dal reale da quello che lui ha a disposizione ma lo sovverte in maniera libera ed è quello che a me piacerebbe che a noi piacerebbe tantissimo che voi faceste che vi liberaste e che la fotografia per voi non fosse soltanto un qualcosa che rappresenti l'oggettivo il reale e che quindi sia comprensibile a tutti quanti ma che sia anche espressione di voi stessi in maniera assolutamente libera libera da regole libera da codici da ogni cosa da